Oggi si conclude l'iter che ha visto coinvolti il governo nazionale, il governo regionale, il comune di Napoli, la città metropolitana per l'utilizzo in lavori di sicurezza ambientale anche dei disoccupati di lunga durata, la cosiddetta platea BROS. Siamo molto contenti perché viene garantita evidenza pubblica, trasparenza, clausole sociali, coinvolta anche tutte le istituzioni compreso la prefettura a cui ho scritto, progetti che hanno efficacia, concretezza, rilevanza sociale, tutela della salute e viene quindi rispettata anche la dignità dei lavoratori, non è assistenzialismo, è mettere insieme diritto al lavoro, dignità e lavori che sono effettivamente utili alla collettività. Davvero un lavoro di cooperazione istituzionale importante per una materia così delicata e conferma ancora una volta la sensibilità che abbiamo avuto su partite che da decenni si trascinavano nei nostri territori, che venivano anche strumentalizzate dalla politica. Noi invece abbiamo agito con concretezza, trasparenza, efficacia e legalità nell'interesse dei lavoratori e della collettività. Grazie. Grazie. Grazie.